La mia figlia La mia figlia La mia figlia La mia figlia Mi vergoglio pure che mi sono ridotta la casa questa è la casa dei miei figli avevamo tanti sogni di poter tornare insieme a vedere distrutta per me è stato mi distruggono i miei sogni io spero che mi aiutate che vengano i miei figli a casa io voglio i miei figli voglio la piccolina che fa l'operazione adesso devi saltare l'operazione non la può fare l'operazione fino a che sta là dentro chiusa non si fa l'operazione per favore aiutatemi io non so che dire Il fatto che tu pianga non è un problema ok? Anzi vengono fuori le emozioni di questo momento delicatissimo della tua vita Scusami che piangono voglio piangere perdonami Antonio Allora calma non è successo niente Allora vi ricorderete Elena Elena una donna molto forte una mamma che vuole a tutti i costi riunire le sue figlie una in Grecia l'abbiamo detto perché l'ha fatta scappare dall'ex marito violento vi legherò e vi mangerò le parti interne vivi soffrirete ma do speriamo mandatemi in galera ma veramente mandatemi in galera voglio andare in galera il giorno che uscirò ma dai l'altra ha bisogno di un intervento e qui arriviamo al punto determinante noi avevamo raccontato una cosa importante ovvero che tu avresti avuto anche una casa dove stare ma c'era il tuo ex e quindi non potevi starci dentro che cosa è successo nel frattempo dopo l'intervista? l'intervista è che io ho saputo che lui se non è andato via di casa l'ho saputo attraverso la mia sorella perché la polizia a me non mi hanno avvisato lui ha detto che è andata alla polizia ha detto vabbè che ho spiegato che lui è una persona un po' psicolabile e diceva no perché non sono andata a casa sono andata via è andata a casa e io ho creduto che vengo a casa e alla casa ok aspettavo qualche cosa ma non tu sei arrivata qui ed eri inizialmente contenta di sapere che lui che lui se ne ha dato forse in un momento di lucidità si ho creduto che ha visto che lui ha visto la figlia malata e ha detto cacchio e si così ho capito che lui si è dispiaciuto per la piccolina che si deve operare che sta male dimagrita che non può stare in comunità e ho creduto che lui se ne ha dato via per il bene della bambina e invece qua vi facciamo vedere invece qua sono andata a casa e ho visto la distruzione totale e lì ti è caduto il mondo addosso mamma mia tutto tutto mi è caduto addosso tutto ho spaccato tutto addirittura il tubo dell'arif che ce l'ho per mettere l'acqua dell'acqua sono 60 metri enorme lui lo so sicuramente con un camion perché è sparito non c'è da nessuna parte si l'autoclave che ha fatto sparire l'autoclave l'autoclave ha spaccato le porte ha rubato le porte perché le ha levati le ha vedute sicuramente perché non ci sono nessuna parte no la porta centrale le finestre a parte che ha spaccato tutta la casa dentro ha spaccato il bagno il bagno tutte le cose quelle mobili che sono riuscite a portare fuori ho cercato a pulire che stava proprio veramente frigorifero tutto aveva fatto proprio la distruzione proprio cattivo con i suoi figli io quello che piango piango perché è un papà è un papà a me mi vergogno per lui mi vergogno perché dico ma perché non ha pietà per i suoi figli e quello mi ha fatto più male te lo giuro Antonio mi ha fatto più male per i miei figli a vedere che è un padre che si comporta così è una male veramente e mi sento male per questo ora Elena non voleva condividere con noi questo momento perché si vergognava molto perché la casa è ridotta male però Elena ha un fottuto bisogno di questa casa per riuscire a rimettere insieme intanto la figlia più piccola ma anche magari far tornare dalla Grecia l'altra figlia lei li manco piange l'ultima volta che l'hai sentita cosa diceva? eh mamma ti voglio vedere mamma non ce la faccio voglio la mia sorellina mamma sai che si deve operare lei piange perché sai che adesso è saltata l'operazione non può operare la piccolina la piccolina deve aspettare fino a che noi riusciremo a farlo uscire fuori per poter andare a fare l'operazione e lei ha i suoi dolori soffre piange è una storia brutta e quindi ho detto ad Elena perché non proviamo ad affidarci alla nostra comunità che si è sempre dimostrata sensibile in queste situazioni e dunque miei cari qualunque e dico qualunque cosa siate in grado di fare per Elena sappiate che state contribuendo a ridare una vita nuova una speranza nuova a una mamma che ne ha passate di tutti i colori una donna che è stata picchiata psicologicamente violentata a delle figlie che stanno adesso in condizioni non adatte perché stanno separate una in Grecia una in una comunità dove le mancano diverse cose tu sei stata molto coraggiosa a denunciare ciò che accade nelle comunità quando denunci con il codice rosso lo so però purtroppo le donne non possono parlare perché quando c'è da affrontare un'udienza minorina hanno paura di scrivere che sono brutte madre perciò di solito le madri hanno paura che le tolgano i figli bravissimo ecco perché spesso ci sono dei ricatti c'è sempre questo paura dei brutti ricatti ma pure io ho paura non pensare però io ho vinto che la mia io sono una brava madre non penso che possono cambiare a dire moda buona diventata brutta perché ha fatto una intervista non lo so è un'ottima madre perché sta lottando veramente con tutte le sue forze per riuscire a dare una dignità e una famiglia alle proprie figlie allora in questa casa per poter essere abitabile c'è bisogno di rimettere a posto le finestre e quindi le porte centrale eccola qua c'è da sostituire questa cucina che è malandata è tutta spaccata sporca distrutta servirebbe una lavatrice un frigorifero che ti ha spaccato l'hai lasciato qua si si qua fuori che altro ci può servire i bagni se lo dicono venite con noi il danno più grande il danno più grande perché è completamente inutilizzabile è nel bagno quindi quest'uomo ex marito pur andando se ne ha lasciato questa situazione ad Elena che adesso la deve gestire e non è assolutamente facile in nessun modo facile per il resto la casa va ovviamente ripulita va ripittata tu sei già in contatto con un elettricista che ti... cerco di vedere se riesco a vedere se c'è problema l'elettricità o no perché non so se ha tagliato i fili devo capire un po' devo capire un po' e con l'arif pure ho chiesto che l'autoclave l'ha rubato pure quello l'ha veduto pure l'arif è rimasta diciamo come ha fatto 60 metri di tubo sicuramente l'ha veduto abbiamo cercato tutte le parti attorno se l'ha buttato no sicuramente è venuto qualche camion qua che ha caricato tutte porte finestre e tutto ha caricato tutte che possibile lui da questa casa ve lo ribadiamo ancora una volta perché è fondamentale dipende il futuro di Elena e delle sue due figlie e pertanto abbiamo deciso che questa è la nostra prima missione vogliamo partire col botto la nostra prima missione di questo 2024 dunque e ci siamo riusciti e no ci stiamo provando non ci siamo riusciti dobbiamo partire in qualche modo dobbiamo fare abbiamo trovato se avessimo pensato a quanto è complicata non avremmo fatto niente grazie invece noi siamo speranzosi e dunque se economicamente se avete un frigorifero una lavatrice una cucina avete visto una parete lineare di questo tipo un letto anche perché lei non lo dice perché per sé non pensa mai ma è stato sfondato anche il letto dove lei dovrebbe dormire quindi qualunque cosa voi abbiate fatecelo sapere anche di seconda mano se è tenuta bene possiamo tranquillamente riutilizzarla se potete dare un euro cinque euro qualunque cosa voi possiate fare se siete degli elettricisti degli idraulici se potete venire a controllare se c'è qualcosa da fare non dovete fare altro che scrivere al 348 896 6969 scrivere a redazione quinto potere chiocciola gmail.com nei commenti qui sotto qualunque cosa voi vogliate su tutti i social perché da questo momento in poi noi dobbiamo fare in modo che elena e le sue due figlie possano riunirsi in questa casa in una casa che è stata per tanto tempo oggetto di sono mancato da qua più da un anno quasi e te la ridotta non solo sta picchiato sta minacciato te la ridotta pure in questo modo e tu ti sei fatto un'idea del perché e sì perché io a questa casa più che altro eravamo in accomodato del mio suocero vinto perché lui aveva fatto anche il sfratto il 2013 però siccome c'erano le bambine però il giudice aveva deciso che la casa rimane alle ragazzine cioè come eredi sono le ragazzine loro sanno perché stanno in vita per potere diciamo vendere questo posto solo se lo fanno inagibile hanno promesso i soldi sicuramente a lui perché diceva a lui mio padre mi ha detto spaccatuto fanno fuori basta che essere fuori addirittura voleva incendiarlo sì voleva metterla a fuoco metterla a fuoco così io me ne vado da qua loro lo possono vendere perché se non posso vivere io qua hanno il diritto loro a vendere se io vivo qua loro non possono fare niente perciò solo inagibile perché le carte sono a tuo favore lo ricordiamo bravo lei ha dovuto dimostrare ce l'ha fatta che è una brava mamma che ha i diritti e rivendica i suoi diritti e dunque per ora caro Tino e solo per ora è quasi tutto perché continueremo a seguire Elena e continueremo sicuramente a riversare su Elena tutto l'amore che siete capaci di darle perché siamo certi di riuscire a in questa missione che in apparenza sembra impossibile ma io non lo so sento sento un odore di e ne abbiamo fatti di peggio non lo so se ne abbiamo fatti di peggio ma questa ma sono sicuro che ci riusciremo sono sicuro che ci riusciremo non più magari grazie scusami Antonio scusami scusami non ti preoccupare forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi scusami